Avevo parlato in precedenza della parte principale del lago di Costanza e poi avevo detto che il reno sarebbe durato poco. Questo perché qui proprio in questa zona molto paludosa il reno torna ad aprirsi e a formare il lago inferiore in tedesco Untersee che viene comunque considerato parte del lago di Costanza.